Ciao, sono Gloria Marco Tulli, vivo a Pescara e ho 50 anni. Come professione faccio la visual merchandiser. Spero di riuscire a far chiarezza su come ottenere la mia libertà finanziaria. In parte ho già iniziato, ma vorrei avere degli strumenti e delle maggior consapevolezze. Il mio sogno in ambito professionale è quello di avere una catena di pizzerie perché io ne ho una, ne sto gestendo una e mi piacerebbe avere più pizzerie, quindi più locali in diversi posti anche all'estero per poter girare perché è una mia passione anche quella di viaggiare e questo mi darebbe la possibilità quindi di fare una vita ancora più ricca, più movimentata, conoscendo un sacco di persone. Nell'ambito privato le mie aspirazioni sono quelle di poter avere più tempo libero da trascorrere con i miei figli, ne ho tre, e di avere più tempo libero per fare quello che mi piace, quindi dedicarmi alla mia persona, quindi facendo attività fisica, viaggiando e dedicandomi alla crescita personale perché è un percorso che ho intrapreso più o meno un anno fa e mi sta dando veramente tanto, mi alzo con una motivazione ogni giorno e sono felice. Quella cosa che più mi è arrivata è il fatto di abbandonare la paura, di aumentare il coraggio e effettivamente la frase di Alfio che dice fatevi sempre questa domanda, questa cosa mi farà morire fisicamente quando abbiamo dei tentennamenti, se la risposta è no allora vale la pena lanciarsi. Le parole di Alfio mi hanno sorpreso tantissimo, mi aspettavo tanto da questo evento ma devo dire che è stato superiore alle mie aspettative, veramente lo consiglio a tutti.